Adley è un grande onore di sicuro. Panettone di Verona Bauer, più sopice bianco con zucchero a velo. Il panettone delle nuove generazioni. Dove è finita la battagliera Miranda che conoscevamo tutti? Via! Adesso ti racconto una favola che ho imparato in Africa. Una favola strana. Miranda! Sono veramente Miranda. Perché vuole proteggere i suoi complici. Ma che cosa dovrei fare? Fidarmi di quegli incapaci che non sono in grado di proteggere mio figlio? Su figlio sta rischiando la vita, non è credente! Ma chi la vuole? Buono, siediti. Mi dia una mano, commissario, lo prego. Quei bambini in pericolo dobbiamo salvarci. In prima assoluta, un film di Luigi Parisi. Il bello delle donne 3. Domani alle 21, su Canale 5. Le rughe, io le attacco. Una pelle più soda, la riconquisto. Con Revitalift doppia azione antirughe più rassodante dell'Oreal. I nanosomi di pro retinolo A penetrano nel cuore delle rughe per ridurle visibilmente. Con il par e la stile, Revitalift rinforza la compattezza. Meno rughe, una pelle più soda. Revitalift dell'Oreal Paris. Perché voi valete. Il pela sicuro è le patate. Gira pela e non ti tagli. Pela sicuro è le carote. Gira pela e non ti tagli. Pela sicuro sguama anche il pesce. E non ti tagli. E non ti tagli più. Il pela sicuro è termo Z. La Dez Amore, uno sformato dorato di morbide patate, prosciutto cotto e mozzarella filante. Dez Amore Finus, cosa fai di buono oggi? I tacchi alti slacciano ma... La dolce frida tonifica ma... E poi mangiare leggero fa bene ma ha il gusto? Ma aprite gli occhi! A tavola c'è vita snella che è magrissimo. Ma è buonissimo! Da nome di tasnella, 0% sacrifici, 100% gusto. Proteggere la loro missione. Nel loro campo sono i numeri uno. Il loro segreto? La tecnologia. Sono i contenitori Tetra Pak. Da sempre noi della Tetra Pak proteggiamo i vostri alimenti per lasciarvi solo il gusto della qualità. Tetra Pak protegge la bontà. È un piacere sentirsi in forma e a tavola sempre olio cuore. Olio cuore. Mangiar bene e sentirsi in forma. Colore spento d'inverno? Oggi lo accendo con colori intensi e brillanti. Solo testa nera Brilliance con Brilliant Intensifier ti dà il 50% di luminosità in più. Brilliance. Da testa nera. Lavarsi i denti più volte al giorno è importante perché i batteri che causano la placca si moltiplicano ora dopo ora. Ma quando non c'è lo spazzolino c'è Deigan Protex a triplazione. L'oxilitolo aiuta a combattere i batteri, il fluoro protegge i denti, il calcio li rinforza. Ora dopo ora, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deigan Protex. Scopri la brillantezza imbattibile nei 3 in 1. L'uovo Finish 3 in 1 Brilliant. Con l'esclusiva perla brillantante per il 40% di brillantezza in più. Dal primo lavaggio ad ogni lavaggio. L'uovo Finish 3 in 1 Brilliant. Riesco a vedere ogni dettaglio. Vedi cose mai viste prima. Con il nuovo Philips Flettivi. Con Pix e Glass. Gran biscotto rovagnati. Un mondo di differenza. In ogni fetta di gran biscotto c'è più sicurezza. Più piacere. Più esperienza. Gran biscotto rovagnati. Il gusto di dare di più. Se vai in riserva di energia, può essere una carenza di vitamine B. Betotal ti risolleva. È un medicinale leggere attentamente il foglio illustrativo. E' Natale. E' Paoli. Hai invitato la fidanzata? Sì. Eccola. Qui ci vuole qualcosa di speciale. Tabito cremoso pesco Philadelphia con Bresaola. B-Drive. Sei proprio una fada. Philadelphia. Qualcosa di magico nel tuo frigo. Volete una bella idea per i regali? Regalate sorrisi con Azeta Spin Brush. E con ogni spazzolino Azeta ti regala il sacchetto da mettere subito sotto l'albero. E da oggi c'è anche Azeta Keep. Il nuovo dentificio per bambini. Azeta. Denti sani dalla A alla Zeta. Consolatemi tutto il mondo. Unetemi. Schizofonic di Jerry Halliwell. Un album da non perdere. Un alt però non perdere. Grazie a tutti.